Musica Salve a tutti ragazzi, io sono Squoll e bentornati su Opera Omnia versione Global. Ci troviamo in zona banner, ci troviamo nel banner di Trey e siamo qui per cercare di ottenere la sua arma LD. Ma cosa più importante, siamo anche alla ricerca dell'arma BT di Stola, che nei precedenti banner non mi è voluta minimamente uscire. Abbiamo un fottile di ticket, visto che sto farmando le summon praticamente con tutti i personaggi e ancora non sono neanche a metà strada, sto per finire di farmare Leviathan. Quindi mi mancano ancora altre 6 invocazioni, quindi posso accumulare davvero un fottile di gem e un fottile di ticket ancora con il farming. E ne spenderemo circa 200 su questo banner, qualora non mi uscisse così subito con il free ticket e la free multi, ma non credo proprio. Beh, direi di partire subito con il free ticket per poi passare alla free multi. Molto probabilmente ragazzi voi vedrete questo video pool il giorno dopo l'evento, poiché non ho avuto minimamente tempo e già si è fatta una scelta, quindi non riuscirei minimamente a registrare, editare e caricare il video in serata. Quindi sicuramente lo vedrete domani mattina. Comunque, free multi e nella free multi ci sta un'orba azzurra, che molto probabilmente non conterà nulla. Naturalmente noi incrociamo le dita sperando di sculare qualcosina, ma ne dubito. Probabilmente mi farà spendere un fottile di ticket, sicuramente. Poi per quanto riguarda il banner di stola, gli ho buttato tipo altri 150 ticket per cercare di ottenere la sua arma BT, ma nulla. Assolutamente nulla, con i ticket sono fortunato nell'ottenere roba tipo ex, armi dorate, anche qualche LD, ma per quanto riguarda le BT, dei ticket non riesco ad ottenere assolutamente nulla. Devo fare il pity e per istola non ne vale il pena. Fare pity per istola non ne vale assolutamente la pena. Beh, direi di partire con i ticket, che come potete vedere abbiamo cappato, e ne andremo ad utilizzare all'incirca 200. Magari fin quando non mi si riempie l'inventario e non manca tantissimo. Beh, dai, direi di partire. Orb dorata. Attenzione che se trovo l'LDT3 comunque continuo a pullare proprio per cercare di ottenere anche la BT di stola. Poi per quanto riguarda il banner non mi manca nient'altro perché di 3 c'ho pure l'arma ex. Forse mi manca la 35, ma oddio, la posso prendere tranquillamente con i red token che ne ho un fottio, ma non c'è sta nulla. Addirittura doppia arma ex e 4 armi dorate dei ticket, signori. Multi ticket, doppia arma ex e un totale di 4 armi dorate in 10 ticket. Tanta tanta roba. Comunque, continuiamo. Comunque, continuiamo. Ha ormai davvero da tanto tanto tempo che non vedo un orb spoiler della BT. Quindi, mi piacerebbe rivedere quell'orb un po' sflesciante con i fulmini che ti indica. Guarda, hai preso la BT anche su questo banner, sarebbe fighissimo. Anche perché mi so skippato quella di Emperor, che posso recuperare volendo con i token. Cosa che per il momento non ho intenzione di fare, magari più in là. Però dai, almeno questa listola, giusto per completare il personaggio. Su via, niente, è un'arma ex, non c'è sta neanche l'LD. E' un'arma ex, non c'è. E' un'arma ex, non c'è. Un'arma ex, non c'è. Un'arma ex, non c'è. io quasi quasi mi libero un altro po' di spazio perché adesso quanti niente non posso neanche controllare quanti ticket c'ho non ci ho fatto caso voglio continuare a pullare signori voglio continuare a pullare cioè almeno per cercare di prendere l'arma ldt3 dai su via almeno questa libero un po' di spazio nell'inventario e continuiamo dai allora signori mi vado a recuperare questi due ticket perché ne abbiamo 779 così riusciamo a lanciare altri 80 ticket ho liberato 100 posti ne lanciamo 80 ci potrebbe stare dai andiamo per l'appunto a lanciare questi altri 80 ticket incrociando le dita e sperando di ottenere almeno l'arma ldt3 che poi il banner non sta neanche girando male cioè nel senso quante power stone avrò fatto perché anche le orbe azzure 34 armi dorate ogni volta assurdo assurdo quante armi dorate riesco ad ottenere che non riesco ad ottenere una semplicissima arma ld o una semplicissima ancora più semplice arma bt su via dai ho speso un botto di ticket fra il banner di stola e questo di tre e dai su almeno la soddisfazione di un'arma ld potresti fare un cambio magari a non darmi tutto st'argento dai arma ex niente c'è sta nient'altro basta stop abbiamo una spiga tremenda e che cos'è ultima multi ragazzi ci starà un orb dorata assolutamente no un orb azzura ci starà qualcosa di interessante dentro l'orb azzura secondo me no il che significa che in questo banner non ho ottenuto praticamente nulla non so nemmeno se lancerò altri ticket perché credo di averne lanciati tipo 300 sì 300 perché 999 siamo a 700 quindi 300 ticket li abbiamo lanciati ragazzi devo lanciare 200 ne ho lanciati 100 in più e non ho comunque ottenuto nulla di che in questo periodo insomma un po di sfiga su opera omnia la sto avendo eh fra bt e ld mi stanno facendo spendere un botto di risorse comunque la maggior parte delle volte non mi sta uscire nulla di interessante quindi ok per il momento direi anche basta poi magari continuo a lanciare qualche altro ticket alla ricerca disperata della bt di istola ma forse neanche perché non lo so non è che mi vada poi più di tanto di spendere tutte queste risorse è un peccato per l'arma ldt 3 che mi sarebbe piaciuto potenziarlo e utilizzarlo anche per quanto riguarda la sua challenge insomma non ho propriamente un'ottima squadra per affrontarla quindi dovrò ingegnarmi per superare quella challenge immagino volevo potenziare 3 portare 3 nella challenge così da prendermi il token insomma farla in modalità un attimino più easy ma vedrò cos'altro posso fare perché comunque ho quistis istola e fran ok potrebbe essere anche un buon team però insomma i danni non sono propriamente ottimi sono tutti quanti danni single target quindi davvero ci metterei un casino a riuscirla a completare comunque lasciamo perdere la challenge e ritorniamo al banner signori io come sempre vi auguro tantissima fortuna con le vostre pool io come detto per il momento mi fermo qua e non lo so non lo so se lancerò qualche altro ticket nel caso dovessi riuscire a ottenere l'arma ldt 3 o l'arma bt di stola farò lo screen come sempre vi farò il post su youtube e anche sul server discord quindi mi raccomando ragazzi unitevi pure al server che trovate il link in descrizione non mi resta che invitarvi ad iscrivervi al canale lasciare like commentare e condividere il video attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione e noi ci rivediamo ad un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti